eccoci qui di nuovo su dir2 volevo andare in bassa california oggi e andiamo a fare questo land rush queste macchine qua vediamo volevo provare a cambiarla intanto abbiamo soldi questo costa di più questo costa ancora di più 340.000 mi debita un cavolo vediamo questa mi sembra messa meglio come stat personalizziamo un verè prendiamo così così lo prendiamo così va bene gara 1 su 3 land rush mi so che quella ehi lante eccoti nella bassa california c'è un clima infernale e la sabbia si infila ovunque quello è abbastanza l'epoca 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 il Buongiorno Buongiorno Non ci si sente a fare ladietro Buongiorno Mi riesco di caricare più bravo Non mi ricordo da dove vi è Se ho poco ripreso Buongiorno 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 Chiusa Non volevo parte di salto di traverso porca puttana puoi farci più nulla guardate che roba è stato di anche lui sono ultimo c'è schifo ancora assalto di traverso non c'è ripresa non lo recupera sono tutti liberi non c'è un attimo che pira come basta non c'è non c'è non c'è non c'è di nuovo aspetta Ripley 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 dai che ci passiamo nooo non girarmi questi qua sono bastardi no? quando li soffassi così ti toccano il culo basta terzo posto ma io di landrush queste macchine qui non sono proprio capace guardate il bordello lascio andare da vedere c'è poca ripresa va bene andiamo a farci speriamo ancora un attimo poi andiamo a vedere di fare la prossima tappa salto faccio i salti davanti qua faccio i salti alla cazzo di nuovo dove vado? bam riuscio a correggere la traiettoria ormai di nuovo salto anche quello però si è ribaltato che l'abbiamo che è ribaltato se si incontrava non c'è non c'è ma non c'è vi volevo comprare Rally Dirt mi sa che sarà il mio prossimo acquisto va bene dai andiamo avanti ci sono trattato per cui meglio andare avanti devo recuperare ma è che proprio queste macchine qua non riesco a farlo adesso dovrei prendere una macchinetta così adesso è la stessa macchina però bisogna e poi cosa c'è ancora? un pizzo in mezzo un pizzo in marri baltato un pizzo in book il pizzo in marri baltato non riesco a farlo un'altra poluzione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cavolo bravo. Vai con sta macchina. Non va. Quarto posto. Che cosa è successo qua? Tizio in mezzo. Guarda, di tutto. Giravoltole. E quindi sono i nomi da croce. Sì, sì. La costa concordia. Buon dai, andiamo a farci la prossima mappa. Hai i numeri per vincere. Sì. Come no? Sono quarta. Com'è che sono messo? Vediamo. Terzo. Vedo da lì. Il mirra in testa. Forse se riuscisse a vincere questa, magari. Ma la vedo male. Ehi tanto, so che l'ultima gara non è andata come volevi, ma almeno ce l'hai messa tutta. Fermi. Ripley istantaneo. Ripley istantaneo perché sennò sono una merda. Dai! Ripley istantaneo. Ripley istantaneo. Ripley istantaneo. Ripley istantaneo. Ripley istantaneo. Toccato! Ripley. Ripley istantaneo. Dai! In для éc Popular2. É tabii Sì, dai. D'esco proprio eh! mi sento troppo sballonzolato qua e la eccolo sono sesto, mi riesco a farli meglio adesso mi impegno e sono settimo se si va è meglio questo è il mentale non credere che sia facciata non posso arrivare ultimo non sto mollando giù l'acceleratore non c'è nessuna sodo oppure questa macchina qua non va bene non c'è nessuna sodo 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 ma vabbè che voletevi dica è andata così non c'è nessuna sodo non c'è nessuna sodo non c'è nessuna sodo Saltone Salto replay anche di questo qua perchè... devo scappare ok terzi abbiamo concluso ma si dai bene di saluto ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao